Una visita privata, quasi intima, nella frazione più colpita dal terremoto del 2009, Onna, che al sisma di dieci anni fa ha pagato un tributo altissimo di vittime, mentre il 70% dell'abitato non c'è più. Il sottosegretario e beni culturale Gianluca Vacca ha colto così l'invito degli onnesi a incontrarli. Un breve viaggio che è partito da casa Onna, il cuore pulsante della socialità della piccola frazione, per poi proseguire nella chiesa di San Pietro Apostolo, restaurata grazie all'impegno del governo tedesco e splendido simbolo della pacificazione tra i due stati, dopo l'eccidio dei martiri di Onna da parte dei soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Obiettivo del governo, ha sottolineato Vacca, è dare impulso alla fase finale della ricostruzione. Le risorse ci sono, ma spesso restano inutilizzate a causa delle lungaggini burocratiche, ha detto Vacca. Alte risorse saranno trovate e messe a disposizione, ma intanto il governo ha previsto nella legge di bilancio finanziamenti anche per permettere agli uffici periferici del MIBAC, tra cui l'Aquila, di assumere più personale. Ci sono tantissime risorse che devono essere spese, l'obiettivo principale è quello di mettere in cantiere tutte le iniziative che servono a spendere le tante risorse che ci sono, che sono state stanziate, ma che per lungaggini burocratiche, per un'eredità che porta ad avere delle procedure molto lente o poco personale, un'altra grave carenza, di fatto non riescono a essere spese. Quindi l'obiettivo principale è quello di poi mettere in campo, programmare la fase finale della ricostruzione. Qual è la situazione della ricostruzione dei beni vincolati, dei beni culturali, storici invece? La situazione è abbastanza confortante, molto è stato fatto ma molto deve essere ancora fatto. Ci sono tantissime opere che devono essere sbloccate perché i soldi sono stati stanziati, le procedure sono state avviate, ma per l'ungaggini burocratiche di fatto i lavori non partono. Quindi l'obiettivo è quello di mettere in campo le risorse anche umane, ricordiamo in legge di bilancio che abbiamo messo le risorse proprio per dotare le nostre strutture periferiche di personale aggiuntivo, per fare in modo che i soldi che sono stati già stanziati vengano spesi e quindi i lavori partano. Il nostro obiettivo principale è che contestualmente ovviamente avvieremo la programmazione economica per le risorse che invece ancora servono per completare tutta la ricostruzione.